Andiamo a Napoli dove c'è la nostra Elena Biggiogero così monitoriamo anche cosa sta avvenendo in quest'altra parte italiana Ricordo che per il mondo solo una domanda, siccome ci sono state fatte un po' di polemiche, Napoli vuota nelle strade occupate eccetera Da testimone, peraltro tu sei milanese, quindi diciamo hai uno sguardo nordico sul nostro amato sud Non vi avvicinate, voglio sapere se Napoli è vuota oppure no, se si rispettano le regole oppure no Guarda, ecco Serena io ti voglio far vedere quest'immagine, noi siamo in una zona che sarebbe pedonale Siamo qua da circa una mezz'ora, c'è in realtà un passaggio di auto abbastanza numerose Abbiamo visto furgoncini, sarebbe una zona commerciale questa in cui il commercio è interrotto perché i negozi sono chiusi Ecco, non siamo fortunati, ecco non siamo fortunati, ecco non siamo fortunati, ecco non siamo fortunati in realtà In questo momento si stanno comportando, cioè non c'è nessuno ma fino a pochi minuti fa c'era un passaggio intenso Quindi in realtà non sa noi commentare ma insomma rilevavamo stamattina più movimento rispetto forse al dovuto Grazie 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 Grazie